Gestire il cambiamento Gestire le preoccupazioni, gestire le ansietà che il cambiamento si porta dietro e portare al di là del guado, creando fiducia, le persone che sono coinvolte in questi cambiamenti. Molto spesso per gestire il cambiamento ci vuole coraggio, perché chi resiste al cambiamento, ma soprattutto chi non vuole certa crescita, chi non vuole certa democrazia, sono cose toste, sono cose dure. Non solo i parassiti, non solo i corrotti, ma c'è tutta la tematica criminalità, che è un tema di cui non sempre si parla abbastanza, ma che ci si trova per la strada schierati contro quando si vuole fare certi cambiamenti.